Saranno intitolati a Giovan Battista Cutolo e a Francesco Pio Maimone, giovani vittime di violenza criminale, due centri giovanili del comune di Napoli situati a Pianura e a San Giovanni a Teduccio. La proposta è stata avanzata dai consiglieri comunali Enza Amato e Fulvio Fucito. Sono due ragazzi, due ragazzi, due giovani napoletani che sono stati vittime di una violenza cieca, immotivata, futile. La loro perdita è una perdita della città e una perdita di cui ancora noi sentiamo una grande sofferenza. Noi come amministrazione comunale, insieme al Consiglio, abbiamo deciso e lo formalizzeremo nei prossimi giorni di intitolare un centro giovanile, un centro culturale, uno a Gio Gio e uno a Francesco Pio, perché è importante che i propri giovani nei luoghi che loro frequentano ricordino questi due ragazzi, ricordino queste due grandi tragedie e noi sappiamo che la cultura e l'aggregazione sociale sono gli antitoli più importanti per poter combattere questa piaga della violenza giovanile.